3 anni fa per festeggiare i miei 15 anni di teatro ho scritto una commedia dal titolo Ciao papà ti presento mia madre, titolo un po' curioso in effetti, dice ma come può succedere questa cosa, eppure è successa. Per scoprire come stanno effettivamente le cose vi invito a venire al teatro Petrolini di Roma dal 4 al 16 di dicembre, ma adesso vi voglio presentare uno per uno tutti gli attori del cast di questo nuovo allestimento della commedia. Ciao, io sono Pablo, un regista spattrinato, sempre a caccia di donne, ma si fa per dire. Ciao, sono Max, dicono che potrei essere il figlio di Pablo, ma non ne sarei tanto sicuro. Sabrina, sicuramente la madre di Max, ma quel tizio, ma chi l'ha mai conosciuto? Io sarebbe Isolina, la donna delle pulizie di Pablo. Come mi piace impicciarmi. Io sono Luana, come dire, un nome, una garanzia. Insomma, sono un'attrice disposta a tutto, o quasi. Scusate? Amo, ma che buono, mi chiamo tu no? Io sono Giulia, attrice di teatro, terribilmente romantica e sognatrice. Ciao, sono Cornelia, attrice di teatro, ma preferisco Refiction TV. Eccomi, sono la madre Ferrarelli, né liscia né gassata. Gli è come mi costa il tango. E adesso vi regaliamo qualche pillola della commedia. Senti, che le diresti di venire a cena stasera con me, così ti illustro meglio il copione. Veramente stasera devo uscire con il mio ragazzo. Fietta gara, c'è con pazienza questo impiastro di Pablo. Io so tre mesi che lavoro qua, vedo un sordo. E a un certo punto dovresti spogliarti. Tu non hai problemi a spogliarti in cena, vero? No, assolutamente. Un'attrice non dovrebbe mai avere di questi problemi. Ah, bene, perfetto. Senti, che cosa ne diresti di venire stasera a cena con me? Così potrei spiegarti meglio il copione. Sai cosa c'è? Che avrei già un mezzo impegno per stasera. Devo ballare la lap dance a fregge. Ma... Verresti a cena con me? Tesoro, non sai quanto mi piacerebbe, ma... Devo andare alla stazione, sa. Arriva mia cugina da Milano. Magari facciamo domani sera, così la porto e... te la presento. Sì, sì, ma pure la cugina. Conto triplicato e imbiancata sicura. Allora, Cornelia, vieni a cena con me stasera? Perché no, se non devo andare a ballare a Ostia? Ma che è una moda! Ma tutti a divertirvi! Ma quale divertimento? Io vado a fare la cubista, così mi guadagno una sessantina d'euro. E così, tra la prova e la provata, il nostro Pablo dirà che va e si diverte. Ogni tanto una di queste minutelle gliela fanno usare. Lui l'invita a cena, ben bianco regolarmente. E a me non me paga, sto stronzo! E allora spicciamoci? Dai, due spaghetti con le vongole! Ah no, abbiamo detto niente pesce. Possibilmente. Vabbè, aglio olio e peperoncino. Ma dai, andiamo, che mi è venuta una fame pure a me. Ah, sì! Oh, Max, ma ci pensi che a quest'ora a Tahiti si fanno il bagno? Max, mi hai parlato tanto di te. Sì, anche a me di te. Sabrina, bel nome. Eh, andava tanto di moda i tempi nostri. Hanno fatto persino un film. Vero? Eh, poi è venuta la contestazione, 68, il femminismo. Pensa, che io di uomini non ho voluto sapere niente per un bel pezzo. E poi hai fatto questo bel capolavoro. Allora, dove andiamo? In che senso? Eh, a casa mia non si può, c'è mia madre. I miei invece sono fuori città. E allora perché non mi inviti a salire per un drink? Sì, mo si chiama drink. Vi aspettiamo al teatro Petrolini. Da 4 al 16 dicembre con Ciao papà, ti presento mia madre! Ciao papà, ti presento mia madre!